Nella sala riunioni della Comunità di Valle, i rappresentanti dell'Associazione Arcobaleno, la Fondazione Comunità di Arco, il Centro di Ascolto e Solidarietà Caritas e Antaluma hanno incontrato gli assessori alle politiche sociali e i sindaci delle maggiori amministrazioni del Garda Trentino per presentare il progetto del nuovo centro di accoglienza. La ristrutturazione dell'edificio Ex Enel, Villa Melania, ad Arco, potrebbe, secondo le associazioni, sopperire alla chiusura dell'ex macello che in via della Cinta ospita, per mezzo della cooperativa Arcobaleno, famiglie disagiate e accogliere gli stranieri e i richiedenti asilo. In merito abbiamo intervistato Romano Turrini. Ci sono già state delle accoglienze in situazioni e in appartamenti privati, qualcun'altra si profila nei prossimi mesi e direi che la logica applicata dalla provincia di distribuire i richiedenti asilo nelle varie vallate è quella vincente. Noi crediamo comunque che queste presenze siano una ricchezza e una risorsa per la comunità, teniamo conto che comunque solo ad Arco ci sono circa 1.500-1.600 stranieri che sono residenti e quindi non saranno le 30 unità in più che variano il clima sociale della comunità intera. Il progetto Casa di Senel ci interessa da vicino, allora dobbiamo ricordare che in via della Cinta, accanto al vecchio oratorio, c'è la casa alloggio, un tempo era il macello di Arco. Questa casa alloggio è stata aperta nel 2000, tuttora ci sono 6-7 ospiti, con problemi vari ovviamente, di immaginazione, qualche volta anche di alcolismo, sono tutti comunque persone della nostra comunità. Adesso questa casa si rivela sempre meno disponibile e funzionante per ospitare persone e quindi probabilmente bisogna trovare un'altra soluzione. Allora, temporaneamente il Comune ha trovato una soluzione in quella che è la Villa San Pietro Nuova che sta sorgendo a Caneve e noi crediamo però che l'edificio Casa Exenel che si trova in via Strapazzocca di fronte alla casa di riposo sia una struttura che o ristrutturata o rifatta totalmente può dare risposte varie. Ad esempio, potrebbero nascere delle stanze per accogliere queste persone con grave disagio, ci potrebbero essere degli appartamenti protetti con anziani a cui riservare alcuni servizi ma che possono essere anche relativamente autonomi e poi quei magazzini della Caritas che sono magazzini di mobili, di vestiti e di alimenti che sono utili per le persone meno abbienti della comunità nostra.